Ennesima morte di un giovane nel Vallo di Diano. Questa volta si tratta di Lucas da Silva, 24enne italo-brasiliano, residente da anni a Sant'Arsenio, ritrovato morto in un appartamento, sito in via Madonna di Loreto a Polla, nella notte tra sabato e ieri. La Salma si trova ora presso l'obitorio dell'ospedale Luigi Curto di Polla, in attesa che si svolga l'esame utoptico disposto dalla procura di Lago Negro. Al momento le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono due, l'eccesso per overdose o per cause naturali. Da ricostruire gli ultimi spostamenti del giovane, che avrebbe trascorso le ultime ore di vita, nell'appartamento in cui è stato ritrovato cadavere, di proprietà di un'altra persona, la stessa che avrebbe chiamato i soccorsi. Purtroppo, all'arrivo dei sanitari del 118, il ragazzo era già esanime su un divano e non c'è stato nulla da fare. Subito dopo, sul posto, sono giunti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Paolo Cristinziano per tutti gli accertamenti del caso. Per ora nessuno tra gli abitanti degli stabili vicino al luogo della tragedia avrebbe visto o sentito qualcosa di rilevante, se non dei rumori riconducibili ad un appuntamento tra giovani, cosa frequente negli ultimi tempi. Ancora tanti punti oscuri dunque, con le prossime indagini che saranno decisive per chiarire i contorni di questa triste vicenda.